La città metropolitana di Reggio Calabria è stata presente sulla Ionica con una nutrita rappresentanza istituzionale. L'occasione sono le diverse iniziative promosse dal territorio nell'ambito del percorso che vede impegnati gli enti locali, tessuto sociale e associazioni sull'ambizioso progetto che punta sulla Locride, quale capitale italiana della cultura per il 2025. Un'idea nata qualche anno fa su input del gruppo di azione locale Gallater Locride, presieduto da Francesco Macri. L'obiettivo è far ripartire il versante Ionico Reggino. A guidare la delegazione della Metro City per un primo incontro di carattere programmatico, il sindaco facente funzione della città metropolitana Carmelo Versace e i consiglieri metropolitani delegati Domenico Mantegna, Rudi Lizzi e Salvatore Fuda. Una riunione operativa giudicata estremamente utile dal sindaco Versace che ha sottolineato la centralità del lavoro di squadra. Un percorso certamente complesso ed entusiasmante al tempo stesso ha detto Versace su cui intendiamo profondere il massimo sforzo possibile perché crediamo che la Locride meriti questo risultato e anche tanto altro in ragione delle numerose risorse sociali e produttive e dello straordinario patrimonio culturale che questa terra custodisce. Locride 2025 è un progetto credibile, solido e autentico che ha il grande merito di partire dal basso, da un impulso diretto del territorio. Intanto se la giuria dovesse accettare e quindi valorizzare questa candidatura che stiamo proponendo con un dossier che ancora deve essere completato e che verrà ovviamente condiviso con il territorio e presentato nel prossimo settembre la Locride merita non soltanto la capitale della cultura ma merita tanto altro quindi noi è chiaro che cercheremo di presentarci con il vestito più bello come è doveroso ed è giusto che sia ed è un'occasione questa che non può mancare a tutta la città metropolitana rappresentata in questo momento ovviamente con questa candidatura della Locride e siamo convinti che ovviamente presenteremo la migliore offerta possibile di questo territorio. Allora intanto un progetto vorrei ricordare che parte dal basso quindi un progetto che è stato voluto fortemente dal territorio con il coinvolgimento del Gallo, il coinvolgimento di tutti i comuni che ne hanno preso parte in tutti questi anni il coinvolgimento delle forze dell'associazionismo e di volontariato quindi un qualcosa che parte veramente dal basso e che arriva ovviamente in città metropolitana per provare a mettere in sinergia tutto quello che di positivo sta venendo fuori noi dobbiamo far sì che per presentarci come dicevo poc'anzi con il vestito migliore emergano quelle che sono le peculiarità del nostro territorio facendole emergere tutte nella sua essenza, nella sua naturalezza quindi non ci caratterizzeremo o meglio non caratterizzeremo il nostro progetto su un asset specifico ma proveremo ad abbracciare un po' quelle che sono appunto le bellezze del nostro territorio prendendole tutte interamente perché ovviamente è molto basso quindi quando parliamo della Locride parliamo di tutta l'area della Locride partendo ovviamente dal basso e arrivando fino appunto alle parti più interne del nostro territorio grazie a tutti